ciao ragazzi allora nuovo video prodotti appunto come promesso top beauty questo video dei prodotti top beauty gene della casa e appunto per la cura della persona allora io non so cosa ho fatto oggi non ho visto in più vabbè dettagli allora a mettere della casa sto utilizzando a parte il lenore che è quello di ira di blasi questo qua è dell'eurospeak che è terminato cosa che ho scritto qua profumo di brezza marina vabbè questo qua è della dexal che è stra buono anche se ha un po' un odore stucchevole però resiste a lungo sui capi non a lungo a lungo ma a un certo che di resistenza questo non so che mettere però lo metterò qua al momento poi come igiene invece per la persona ho terminato non uno ma ben due prodotti della dexal che come si sta bagnando tutto non so cosa sta perdendo camele ambra questo qui della dexal profumazione non credi che fa non amuso neanche tanto lo so a memoria e questo talco liquido no muschio bianco scusate bagno doccia questo lo voglio te perché amo a usare a bello fantastico mi piace troppo poi ho finito anche questo poi igiene orale a tanto un verde s s s placca colluttore cosmetico generale quotidiana barriere protettiva anti placca si se vedete che sto facendo con senza gli occhiali che li ho qua giù qua sotto il telefono e perché ci vedo lo stesso un po vabbè se la vicino così ci versano nada comunque questo colluttore appunto per il generale ed è stra buono pulisce bene e igienizza bene e lo utilizzo va via come il pane quindi dopo ne ho altri in bagno ovviamente ben due uno che l'ho già iniziato e l'altro che è da iniziare poi dentifricio altra in generale della sensodine anche questo siccome che i denti gengibili i denti gengibili che sto dicendo i denti sensibili e le gengive sensibili sto utilizzando questo qua della sensodine perché mi ci trovo bene e mi aiuta sia contro le bevande fredde che calde quindi top sia un pasto caldo che freddo stessa identica cosa non sto più soffrendo la sensibilità sia dentale che gengivale per quanto riguarda la mia bocca quindi non ce l'è come questo ora sto usando il para di opere no aspettate che para non è male dai al momento non soffrono né di come dire di perdita di sangue nelle gengive non ho sangue quindi tutto vabbè non si può dire però è così non mi stanno sanguinando le gengive quindi top né né altri delui gengivale null'altro quindi ci troverà con quello ha a un buon sapore anche quello paradontax no che parato ancora bio repair bio repair non è male per niente quindi anche questo top mi sembra che l'ho comprato a sapone e profumi ma è ripetibile ovunque in ogni posto mi sembra piaciuto mi sembra che l'ho comprato a sapone e profumi ma è ripetibile ovunque in ogni posto di profumeria che sia anche il supermercato e via discorrendo quindi anche questo è molto buono e fa la sua giusta pulizia il giusto lavoro nulla ragazze il video è finito qui la busta è vuota io ora metto tutto a posto aspettate un attimo e noi ci si vede al prossimo video quindi nulla ragazze questo era tutto e se qualsiasi prodotto vi è piaciuto fatemi sapere quale se no fatemi sapere che cosa utilizzate se l'enor se qualsiasi cosa ditemi cosa ne pensate tanto quanto ci sto mettendo pochissimo quindi niente ragazze se appunto questo video vi è stato non dico proprio utile ma di compagnia o magari avete preso appunti su ciò che acquistate acquistate o acquisterete fatemelo sapere sotto i commenti e appunto ci vedremo per un altro video o top flop make up o skin care e ci ritroveremo ad aggiornarci per un altro nuovo video appunto restate centralizzati per un altro video che non farò oggi ma chissà quando o magari un video blog non lo so di altro che criccio e a presto ciao a seguitemi su instagram come youtuber melania da rettino basso sotto quindi metto tutti i nomi di riferimento dei miei social e come appunto tiktok melania beauty make up ciao